Buongiorno a tutti, ecco le mie visciole che stanno diventando mature, piano piano, ma penso che non riuscirò ad assaggiarle, in quanto gli uccellini presenti qui in campagna ogni anno non me ne fanno assaggiare una. Vedremo, adesso farò una guardia serrada. Poi farò un video in cui vi farò vedere come queste viscele sono maturate e cresciute. A presto! Grazie! Grazie!